Attraverso fondi nazionali sono arrivati all'Istituto Autonomo Case Popolari 2 milioni e mezzo di euro. A cosa serviranno? Allora, sono fondi intanto della legge nazionale, la numero 80 del 2014, che è gestita ovviamente dalle regioni, nel nostro caso la regione Sicilia, a mano dei bandi, nel 2015, ai quali noi abbiamo partecipato presentando 10 progetti, 10 progetti che sono stati tutti finanziati, per complessivi circa 2 milioni e mezzo di euro. L'intervento più grosso è a Mussomeli, è un intervento di 1 milione 750 mila euro per un intervento di consolidamento di immobili di dirizia residenziale nostra, lì a Mussomeli. E comprende anche una messa in sicurezza e un consolidamento di una parte che sta franando. Poi abbiamo alcuni interventi, 5 se non ricordo male, a San Cataldo per 250 mila euro e poi 3 interventi qui a Caltanissetta per circa 400 mila euro. Dove sono gli interventi a Caltanissetta? Piazza Sabugina abbiamo un intervento di 100 mila euro, poi un intervento a Santa Barbara per 300 mila euro in via Stiboli e un altro intervento sempre in Santa Barbara in via del Minatore numero 12. Si tratta quindi sempre di interventi di consolidamento, non di costruzione di nuovi allonti? No, 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 questi sono per ora, vengono finanziati, sono interventi di manutenzione straordinari perché come sapete gli immobili di edilizia popolare costruiti soprattutto negli anni 60, 70, fino agli anni 80 hanno bisogno di manutenzioni, di interventi per cui stiamo cercando di attingere a tutti i possibili finanziamenti che mette a disposizione lo Stato e la regione siciliana per cercare di dare diciamo delle risposte manutentive a tutti gli immobili che hanno bisogno. Per ora è molto parziale perché poi ovviamente come immaginerete gli interventi sono enormi quelli che dovremmo realizzare nel territorio soprattutto a Gela e a Caltanissetta. Però siamo fiduciosi perché abbiamo avuto notizie che nei prossimi mesi dovrebbero uscire nuovi bandi sempre finanziati dallo Stato per ulteriori interventi manutentivi ai quali noi ovviamente come Gela e Cipi di Caltanissetta parteciperemo, stiamo già predisponendo tutti i parcoprogetti per gli interventi. Per quanto riguarda invece nuove costruzioni, a oggi ci sono solo notizie di stampa dove si dice che il Governo nazionale sta anche in questo caso predisponendo un nuovo piano per dell'edizia residenziale pubblica. Quando avremo notizie ovviamente ve le faremo sapere. E parlando di interventi di manutenzione non possiamo dimenticare la via Puccini a Caltanissetta, che punto è? Allora, via Puccini a Caltanissetta, già abbiamo detto che abbiamo già realizzato e completato il primo intervento di messa in sicurezza provvisionale, per cui si è evitato che i residenti venissero sgomberati. Quindi abbiamo già un minimo di requisito di sicurezza per poter continuare a tenere gli abitanti all'interno dei propri alloggi. E' chiaro che è necessario programmare un intervento di consolidamento definitivo. Per questo, essendo un immobile di proprietà mista, quindi non solo noi siamo parte dei proprietari, è necessario attivare tutte le procedure previste nel caso per gli immobili in proprietà mista. Per cui a giorni ci sarà un'assemblea e quindi verranno decisi gli interventi. Anche perché infatti voi siete proprietari di alcune case, ma per quanto riguarda le case che sono state riscattate, la quota dovrebbe essere uscita appunto dai proprietari. E questo è chiaro, sì. La pubblica amministrazione in generale, parlo, non si può fare carico di intervenire sull'immobile di proprietà altrui, privati. Anche se capiamo e ci rendiamo conto, ne abbiamo parlato con sia i residenti, i proprietari, sia con le forze politiche, in particolare con il Comunicato di Sette, è necessario che si intervenga anche per dare un aiuto ai residenti che sono di fasce basse, fasce deboli, che non hanno le risorse necessarie per un intervento che si presume sarà cospicuo appunto di vista economico. Per cui siamo fiduciosi che in questo caso la regione siciliana possa dare un contributo, così come è successo in provincia d'Agrigento qualche anno fa, dove è intervenuta con un finanziamento importante per consolidare un immobile che era, anche in questo caso, costruito non a norma. Ecco, diciamo così, per cui sono necessari interventi di manutenzione.